per andare a roma in treno al mattino da pescara occorreranno 20 minuti di meno stessa cosa per tornare purché partiate di pomeriggio ma attenzione se viaggiate dal capoluogo adriatico verso la capitale dopo mezzogiorno ci vorranno ben oltre cinque ore niente in confronto alle sei ore che impiegherete per raggiungere pescara da roma con il treno delle 11 a 10 l'unico in partenza la mattina dalla stazione tiburtina è come se non bastasse le corse diminuiranno da 6 a 4 al giorno da roma a pescara e da 6 a 5 quella in senso opposto e quanto prevede il nuovo orario invernale di trenitalia che entrerà in vigore l'11 dicembre e che già diventato un caso politico con l'interrogazione parlamentare presentata la camera dal deputato di sinistra italiana gianni melilla per chiedere conto delle variazioni che trenitalia invece difende spiegando che per la tratta che collega il capoluogo adriatico alla capitale i cambiamenti non sono semplici spostamenti di mezz'ora qua e là ma sono stati studiati in base al flusso pendolare sul percorso privilegiando frequenza e velocità dei viaggi di andata al mattino e di ritorno a pomeriggio se la scelta non è piaciuta neppure a feder consumatori abruzzo ora a fare chiarezza toccherà al ministro delle infrastrutture chiamato in causa dallo stesso melilla nella sua interrogazione in cui le decisioni di trenitalia vengono definite gravi portatrici di ulteriori criticità per il già malandato sistema ferroviario abruzzese in particolare sulla pescara roma non ci sono più treni dopo le ore 9 23 scrive il parlamentare escludendo così tutta la fascia della prima parte della giornata mentre da roma il primo treno che collega la capitale a pescara parte alle ore 14 30 il secondo alle 16 e 45 il terzo alle 18 e 45 poi più niente praticamente da roma non c'è più nessun collegamento mattutino per pescara rileva per poi osservare è vero che col nuovo orario il tempo di percorrenza è ridotto a tre ore e 22 minuti ma è bene ricordare che nel 1970 l rapido pescara roma impiegava tre ore siamo in presenza di un netto peggioramento dell'offerta di treni continua melilla nella sua interrogazione che si tradurrà in un enorme regalo al trasporto privato su gomma via autostrada e aggiunge è veramente grave la scelta di trenitalia che continua a considerare di serie di cittadini abruzzesi che evidentemente non meritano una offerta accettabile di treni sia quantitativamente che qualitativamente a lungo andare mette in guardia il deputato di sì è facile intuire che prima o poi si porrà il problema della stessa permanenza della relazione ferroviaria pescara roma osserva melilla allo stesso modo in cui anni fa fu soppressa la relazione pescara napoli e con esse i collegamenti anche locali tra sul mona e carpinone con un grave danno per le popolazioni montane interessate e per lo sviluppo turistico del bacino scistico dell'altopiano delle cinque miglia e dei due parchi nazionali della magliella ed abruzzo e poi loro pensano di tirar giù la gente dall'automobile ormai non ci sono più parole basta non se ne può più